e ben ragazzi nel nostro federicna14 oggi ragazzi siamo qui per aprire un pacchetto delle adrenalin xl andiamo avanti con lo spacchettamento vediamo cosa troveremo in questa bustina come potete vedere qua ho già l'album come potete vedere dei calciatori panini e niente andiamo avanti allora prima carta abbiamo questo qua paul lirola dalla fiorentina seconda carta abbiamo stefan radu della lazio terza carta abbiamo salvatore sirigu del torino terza carta emil audero della sandoria e adesso ci sono le due speciali un attaccante e un difensore il difensore è bellissimo german pezzella difensore insuperabile guardate qua bellissima e attaccante uuu federico chiesa assist man bellissimo ragazzi allora ragazzi se volete un altro episodio mi raccomando arriviamo a 10 like e faremo un prossimo episodio per il vostro federicna14 tutto e le fine e niente ci vediamo al prossimo video bella ciao 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 ciao